L'idea chiara che avevo in mente quando ho realizzato i miei oggetti era quella che dovevano comunicare subito qualcosa. Il messaggio doveva arrivare chiaro. E' così che è nata la mia collezione, che ho presentato per la prima volta nel 2018, nella Galleria di Rossana Orlandi. Love, questo è il messaggio che volevo dare. Quindi una sedia, un oggetto di uso comune, ma che fosse anche un po' arte, che fosse un po' pop. Così come il messaggio più forte, ironico del FAQ. Può sembrare una parolaccia, ma in realtà no. In realtà è un grido di rabbia. I miei oggetti sono realizzati in ferro. un materiale forte, indistruttibile. Un po' come mi sento io.